Di che cosa si occupa la diagnosi prenatale? La diagnosi prenatale si occupa del benessere fetale, mediante una diagnosi precoce con l'utilizzo delle varie tecniche che negli anni si sono andate affermando. Ad esempio l'ecografia ci permette di seguire il feto nelle varie fasi della crescita attraverso esami che si effettuano nei tre trimestri di gravidanza, oppure una valutazione della morfologia per escludere che ci siano malformazioni. Con l'amniocentesi e la villocentesi è possibile studiare invece i cromosomi fetali per escludere le varie patologie come la sindrome di Down. Il prelievo viene effettuato mediante l'introduzione di un sottile ago attraverso la parete materna. Si preleva una quantità di liquido che viene poi affidata alle tecniche dei citogenetisti per lo studio dei cromosomi del feto. Dottoressa, che cos'è il B-test? È un test di screening che ci permette di valutare il rischio che la mamma ha di avere un figlio affetto da patologia cromosomica. Mediante un esame ecografico, che ci permette di valutare lo spessore della nuca al traslucensi, lo spessore retronucale, ci dà la possibilità di stimare il rischio. In caso di positività del test, si può accedere allo studio dei cromosomi fetali mediante l'amniocentesi o la villocentesi. Come si può prenotare un esame ecografico in gravidanza? La prenotazione si effettua telefonicamente chiamando il numero 06 854 6551. E la prenotazione del B-test come avviene? Si può chiamare il numero 06 854 6551 oppure personalmente presso la stanza 7 del servizio. E per l'amniocentesi e la villocentesi, qual è la procedura di prenotazione? Le prenotazioni sono riservate alle donne che abbiano già compiuto 35 anni. Si possono effettuare presso il servizio alla stanza 7 del piano terra oppure telefonando al numero 06 77 30 26 13.